La conferma delle sei condanne decise nel primo giudizio d'appello del 2020 è un proscioglimento per intervenuta prescrizione dei reati. Si riassumono così le richieste che ieri il sostituto procuratore generale Nicola Proto ha avanzato davanti alla Corte d'Appello di Bologna presieduta da Laura Sola nei confronti delle sette persone coinvolte nel processo di secondo grado bis scaturito dall'inchiesta Emilia coordinata dalla DDA della città di Bologna per l'appunto. Si tratta delle posizioni relative a quelle degli imputati per i quali il 7 maggio 2022 la Cassazione nel rendere definitive altre 74 pene aveva annullato con rinvio le rispettive condanne. L'operazione Emilia scattata il 28 gennaio 2015 con 117 arresti disarticolò il massiccio insediamento dell'andrangheta in Emilia Romagna della cosca Grande Aracri di Cutro e il suo radicamento nella provincia di Reggio Emilia ma anche a Modena, Parma e Piacenza e fino ad arrivare addirittura alla bassa Lombardia. Sulle rive del Po infatti come ricostruito dalla Suprema Corte l'associazione autonoma della casa madre di Cutro sebbene alla stessa collegata per oltre un decennio ha contato sulla disponibilità di uomini capaci di rendersi autori di molteplici reati dalle estorsioni all'usura dai danneggiamenti alle intestazioni di fittizie di beni e società al rimpiego di denaro di provenienza illecita.